Il sole risplende, buon pranzo. Mancano 5 minuti circa alle 14, 5-6 minuti. Benvenuti in diretta con la trasmissione. Tra 35 minuti andremo in diretta con la trasmissione, appunto, articolo 21. Ma dobbiamo in qualche maniera, con questa giornata splendida, parlare con quelli che ci stanno seguendo in questo momento perché qui c'è veramente tanto da dire. Abbiamo fatto un servizio questa mattina e da non perdere, lo dico anche a chi ci segue, a tutti gli amici in Italia e all'estero, perché da questa inchiesta parte un'inchiesta importante, quella di demolire quelle case che sono costruite sul demanio pubblico. Pensate che dopo 55 anni la Cassazione ha dichiarato che i terreni davanti a Caminia erano del demanio e quindi hanno bloccato, sequestrato e probabilmente i proprietari dovranno pagare anche la demolizione. Oggi in diretta alle 14.70 un servizio splendido, non dovete perderlo perché ha parlato il sindaco di Caminia, di Stalletti, insieme al vice sindaco, quindi Mercurio, insieme a Rosario Mirarchi, il vice sindaco, e hanno parlato e raccontato i particolari. Vi faremo vedere delle case, delle casette che addirittura erano dentro le mura della ferrovia. C'era una casa in particolare dove il muro di cinta della ferrovia entrava dentro la cucina di questi che avevano abusato di queste costruzioni senza contratto e senza niente. Ma la cosa grande sorpresa è stata la telefonata che abbiamo fatto a un numero che c'era scritto Fittasi, risponde una signora da Roma che con la sorella che vive in America. Ricordiamo che queste case si fittavano in nero a 1.500 euro a settimana, 71 alle villette sequestrate, un servizio di quasi un'ora che non dovete perdere, eccezionale, proprio per darvi l'idea di quello che è accaduto. E poi l'arroganza dei proprietari, di quello che facevano durante l'estate, addirittura si mettevano le sedie per occupare anche i posti e il povero cittadino libero che andava nella spiaggia libera doveva subire anche la parte arrogante, la prepotenza di alcuni proprietari, non di tutti. Ma la cosa incredibile nel servizio è che facciamo vedere le due case degli ex sindaci di Stalletti. Il penultimo sindaco di Stalletti ha la residenza addirittura in una casa abusiva lì a Caminia. Avete modo di seguire il servizio e di sentire quello che ha dichiarato sia il sindaco che il vice sindaco. In diretta, amici, per quanto riguarda questa inchiesta, può partire una vera rivoluzione da Santa Domenica di Ricadi a Ricadi, nel Tireno Cosentino dove hanno costruito sulle spiagge, sul Demanio, sulla parte Ionica e tante altre zone. E in particolare abbiamo scoperto che la signora che abbiamo chiamato al telefono a Roma, Chiara Solele in America, è la stessa figlia di quel padre che ha costruito quel fungo a Pietragande, una casa che avete il modo di vedere, lo chiamo nel fungo, fu descritta in maniera vergognosa da parte di Sgarbi. È una cosa incredibile quello che vedrete oggi alle 14 e 30 d'articolo 21. Lo dico anche amici in Italia e all'estero perché da questa inchiesta guidata dal procuratore Nicola Gatteri può nascere tanto anche in tutta Italia in merito a chi ha subito degli abusi, a chi ha costruito anche dopo 50 anni, 55 anni, lo Stato si può riprendere il proprio territorio. E la cosa che ha dichiarato il sindaco è che abbiamo sentito anche da parte del vice sindaco, dice che ieri durante il sequestro delle case c'era lo Stato, decine di carabinieri, comandanti dell'arma, la guardia costiera. Ecco, abbiamo visto lo Stato a Stalletti. Allora amici, in Italia e all'estero seguite l'appuntamento alle 14 e 30 su Carabia TV, canale 15, replica questa sera a mezzanotte, ma in diretta potete seguire anche lo streaming in tutto il mondo www.carabiatv.it, clicca, guarda la TV. Ripeto, www.carabiatv.it e cliccate, guarda la TV. È in tempo reale, andate in diretta e seguirete il servizio. A voi i commenti, ma sicuramente alle ore 18, lo dico, pubblicheremo la telefonata della signora in diretta questa mattina a Caminia di Stalletti, siamo in Calabria, Italia, Italia, Europa. Grazie, ci vediamo alle 14 e 30 in diretta in Italia e nel mondo.